A Lentini per una multa innocente cambia anche la segnaletica stradale. Ci riferiamo al cartello che vedete alle mie spalle. Da cartello che indicava la sosta per le autovetture della polizia municipale passa a cartello per la sosta delle autorità. Infatti il sindaco è un'autorità, il presidente del consiglio comunale è un'autorità, i consiglieri comunali sono un'autorità e quindi spazio alle autorità. Il sindaco però in un consiglio comunale aveva affermato a Chiarelettere che le ordinanze non si cambiano mai. Il sindaco è Pinocchio. Ve lo dimostriamo in questo video. Le rivelo una cosa, l'amministrazione comunale dopo che ha firmato un'ordinanza non è fatta da persone psicopatiche che possano cancellare un'ordinanza e generare un danno personale per tutta l'amministrazione perché l'ordinanza è firmata. Le rivelo una cosa, l'amministrazione comunale dopo che ha firmato un'ordinanza non è fatta da persone psicopatiche che possano cancellare un'ordinanza e generare un danno personale per tutta l'amministrazione perché l'ordinanza è firmata. Vi è mai capitato di avere delle reazioni strane a proposito di determinate situazioni? Queste reazioni vi hanno dato dei dubbi non indifferenti riguardo alla vostra sanità mentale? Se temete di avere una mente diversa da quella delle altre persone allora avete cliccato il video giusto.